Azione! Davide Cavuti, prodotto da Fondazione Pescara Abruzzo e da Mute Art Film, è il terzo diretto dal musicista e regista abruzzese. Massimo d'apporto è Ennio Flaiano, Michele Placido interpreta Vittorio De Sica, Mariano Rigillo veste i panni di Federico Fellini, Pino Amendola interpreta il produttore cinematografico Peppino Amato. Nel cast anche l'attore avezzanese Lino Guanciale che interpreta una giornalista la cui figura è ispirata a Carlo Mazzarella. Tra gli altri attori anche Edoardo Siravo, Deborah Caprioglio, Maria Letizia Gorga, Annalisa Favetti e Angelica Cacciapaglia. Nel cast tecnico Matteo Veleno, direttore della fotografia e Annalisa Di Piero, scenografia e costumi. Adesso, coraggio, il meglio è passato.